Su dai mamma, ho una fame di cose super buone Uff, fa sempre quello che vuole lui Io voglio qualcosa di leggero per me Per me? E io non posso mangiare quello che mi piace Ciao Ah, perché se le mangiate quello che mangiate Adesso basta, eh? Certo Sì papà, ecco I Wirstel Golosino Kraft sono gustosi e delicati Kraft sa farli così Golosino Kraft Wirstel così, li mangi a cuor leggero E Golosino è anche light Con solo il 15% di grassi Kraft, cose buone dal mondo